Allora, oggi affrontiamo questo argomento che sappiamo essere abbastanza ostico, ma lo abbiamo voluto inserire nel programma, non tanto perché sia ostico per renderlo anche più facile, anche questo certamente è uno degli obiettivi, ma soprattutto per affrontare queste tematiche della finanza regionale, ma in genere della finanza pubblica, togliendo di mezzo il pregiudizio. Noi purtroppo, diciamo, chi studia questa materia si rende conto di quanto a tutti i livelli, da quello politico, quello amministrativo e spesso anche quello tecnico, la materia sia inondata di pregiudizi, di luoghi comuni, eccetera, mentre ecco quello che dovremmo dare un piccolo contributo su alcuni aspetti che riguardano appunto un elemento essenziale. La finanza pubblica non è quella dei numeri, certo ci sono anche i numeri, i bilanci, i numeri, ma soprattutto è quella che consente, io dico sempre ai miei studenti, di realizzare i diritti, perché senza diritti, i diritti li realizziamo solo con le risorse e le risorse non si inventano, qualcuno, molti hanno una concezione dello Stato e quindi dello Stato inteso in generale, come, diciamo, soggetti pubblico, Stato, regioni, comuni, come di un grande posto di San Patrizio, dove le risorse sono infinite e dove basta convincere chi è il governante del momento a mollare il borsellino, aprire il borsellino e rilasciare denaro. Proprio per questo io nell'introdurre il tema brevissimamente, volevo ricordare che quando si parla appunto delle finanze, dell'autonomia finanziaria, delle regioni, delle province autonome, ma anche dello Stato, in realtà stiamo parlando di un concetto di finanza che è comune anche alle famiglie, a noi singoli, alle singole famiglie, alle imprese, ai professionisti, perché alla fine si tratta sempre di mezzi patrimoniali, di reddito, di credito, dei quali si dispone sia come persona, sia come famiglia, varie forme associative, come imprese e così via, per procurarsi i mezzi per la realizzazione dei propri fini. Allora, alla fine però ci sono sempre le entrate e le uscite. Nelle uscite, nelle entrate è come procurarsene con il lavoro, quindi stipendio, pensione o con la professione, quindi attività professionale, attività di impresa e così via, la spesa decidendo come investire queste risorse. Questo vale per la persona, per la famiglia e vale per lo Stato, per le regioni, per le province, per i comuni. La finanza pubblica, quindi, altro non è che la stessa cosa, quindi delle risorse finanziarie sotto varie foglie, diciamo, per le quali lo Stato e tutti gli altri enti pubblici si avvalgono per realizzare i propri fini, quindi i propri fini che sono soprattutto quelli di dare, come dire, concretezza ai diritti che sono garantiti dalla costruzione, quindi questa è l'evoluzione, naturalmente nel tempo sia l'ambito di intervento degli Stati si è sempre più evoluto ed ampliato e quindi oggi quando si dice finanza pubblica si dice un sistema che è tutto interrelato, quindi non è che uno è indipendente dall'altro, ma ogni livello è fortemente indipendente dall'altro, che complessivamente in vari modi concorre a realizzare appunto tutti i servizi, tutte quelle attività, anche tutte quelle garanzie, quei diritti che la Costituzione ci garantisce. Due parole per dire, elementi essenziali, quali ci parlerà anche il dottor Guella, è proprio quello di dire quali sono gli elementi dell'autonomia finanziaria, perché quando si parla di autonomia finanziaria che sia dello Stato, che sia della Regione, del Comune, della Provincia Autonoma, questa è sempre legata, lo vediamo in questi giorni assistendo alla formazione del bilancio dello Stato, quindi bisogno di certezza, quante sono le entrate per sapere che cosa può sospendere, la programmabilità delle risorse, perché come vediamo, quando si parla di pensioni, qual è il nodo? È quello che quando noi diciamo che introduciamo un certo regime pensionistico, questo non è che mi impegni a questo bilancio, mi impegni a tutti i bilanci prossimi a venire per decenni e decenni. Poi ci sono i fattori che dipendono invece dall'ordinamento, quindi da fattori come l'ordinamento europeo, nei trattati, la nostra stessa Costituzione che parla di queste cose in più punti, che appunto c'è l'ultima da Flavio, e poi ci sono i fattori economici, si parla sempre del debito pubblico, in che modo il debito pubblico condiziona la vita? Proprio perché non esiste il Pozzo di San Patrizio, ma quello è un Pozzo di San Patrizio geometrico, non finanziario, e le risorse sono sempre limitate, quindi che sia lo Stato, che sia la Regione, che sia la provincia autonoma o il Comune, questo deve fare dei conti con le proprie risorse disponibili che dipendono da sue decisioni, per esempio da come si imposta il sistema tributario, e per poi importare le proprie spese, su quali aree di intervento si distribuiscono le pene. Detta questa cosa così di carattere generalissimo, e prima di parlare, prima di dare la parola a Flavio Guella, vi nutro brevissimamente, vi presento brevissimamente a Flavio Guella. che si conosce da moltissimi anni, la sto seguendo nella carriera universitaria, che la segue da diversi anni. Oggi Flavio Guella è ricercatore a tempo indeterminato, quindi una volta si diceva il ruolo dell'Università degli Studi di Trento, dove si è laureato, poi ha conseguito il dottorato di ricerca e l'abilitazione nazionale, sia in diritto costituzionale che in diritto comparato, in questa fase si sta occupando come docente di diritto europeo, di diritto della contabilità pubblica, ed è questo per il quale oggi si parla, di giustizia costituzionale, anche di introduzione del diritto italiano nei corsi Erasmus della facoltà di giurisprudenza. Come dire, si sta occupando, ha una numerosissima e ampissima serie di pubblicazioni, sia come volumi, parti di volumi, capitoli, articoli su riviste scientifiche, sia in lingua italiana, se è in lingua inglese, in tedesco e così via. Però mi fermo qui, perché sennò dovrei continuare. Per il curriculum di Flavio corredebbe un tempo troppo lungo, quindi mi fermo in questi piccoli tocchi, solo per passare la parola a Flavio e che si parla dell'argomento nel quale io vi ho solo accennato. Troppo, troppo gentile, grazie per l'invito innanzitutto e per la presentazione non necessaria, diciamo così, ricordo che avevo conosciuto Gianfranco Postal proprio quando era stato da poco approvato l'accordo di Milano, quindi appunto in questi anni ci siamo frequentati tanto vedendo un pochino anche tutta l'evoluzione recente del racconto che proviamo a farvi oggi sulla specialità finanziaria della provincia di Trento. E questa presentazione minaccia davvero di introdurre un seminario noiosissimo, detto così. Diritto della contabilità pubblica, evidentemente non vogliamo parlarvi di questo nel dettaglio, adesso facciamo soltanto un intervento seminariale, come è stato chiesto, che cerchi di dare un pochino una rappresentazione potabile di come il diritto può contribuire a definire questa tematica diversa dall'ambito giuridico, la finanza pubblica, intanto bisognerebbe definire cos'è la finanza, poi bisognerebbe definire cos'è la finanza pubblica, poi definire cos'è la finanza autonoma, che sono tutte questioni non giuridiche, ma il diritto deve disciplinare la realtà e questa particolare realtà finanziaria ha le sue regole giuridiche, appunto il diritto della contabilità pubblica non è l'economia pubblica, io vi do una rappresentazione del tutto parziale di un tema di cui Gianfranco Postal vi saprebbe parlare molto meglio in una visione molto più ampia, che spazia dall'economia alla politica, al diritto, perché il tema è la storia, è la storia anche dell'autonomia trentina dove affonda e dell'approccio romano, come vede l'autonomia trentina Roma, che anche questo è tanto importante quanto come la vivono i trentini, l'autonomia finanziaria, quindi se c'era una persona adatta a tenere questo seminario non ero io, ma oramai siamo qui e quindi cerco di darvi questa rappresentazione appunto un pochino seminariale, un pochino leggera spero, prima si diceva c'è il riferimento costituzionale, si parte sempre da quello, è un pochino tradizione, partiamo dalla Costituzione, o al limite dallo Statuto, che è una legge costituzionale, ma allora vediamo nella Costituzione cosa c'è sull'autonomia finanziaria per cercare di dare questa rappresentazione giuridica di cosa sia l'autonomia finanziaria del Trentino e come si è evoluta nel tempo, magari facendo qualche parallelo con l'autonomia finanziaria delle altre autonomie territoriali, allora cosa c'è in Costituzione? Apparentemente c'era molto e adesso c'è moltissimo, c'è un articolo molto lungo rispetto agli standard di come si scrivono le Costituzioni, le Costituzioni si scrivono per principi, non per regole, quindi nelle Costituzioni è normale trovare non regole dettagliate, ma principi, cioè precetti senza campo di applicazione ben predefinito, si sta sul vago, in Costituzione è anche un pochino un programma per il futuro e si vedrà come lo si deve implementare, e mentre la Costituzione, già quando l'ha scritta nel 1947, voleva essere abbastanza precisa sul tema dell'autonomia finanziaria, o si pensava in Assemblea Costituente di poter essere abbastanza precisi sul tema dell'autonomia finanziaria. Quando poi l'abbiamo riscritta, la Costituzione in quella parte, nel 2001, ci ha detto, beh, però per come sono andate le cose in questi decenni, forse non era scritta in modo abbastanza dettagliato, proviamo a dettagliarla di più, e abbiamo allungato ancora di più l'articolo 119, e poi se lo leggiamo bene, però in questo articolo 119, nella prima versione del 48, vigente dal 48, nella visione poi vigente dal 2001, non è che ci siano scritte cose radicalmente diverse, gli ingredienti sono sempre quelli, gli ingredienti costituzionali, si cita l'autonomia finanziaria, si dice che questa autonomia finanziaria però va esercitata dalle autonomie territoriali, nelle forme, nei limiti fissati dalla Repubblica, dalle leggi, dal coordinamento, che poi per la verità quando si è scelto di riscrivere il 119, il coordinamento lo abbiamo portato fuori, l'abbiamo messo nel 117, perché sembrava più logico metterlo lì in una materia concorrente, tra l'altro, giusto per fare confusione, ma erano gli anni di grande ebbrezza per l'autonomia, dopo gli anni 90, delle leggi Bassanini, del federalismo amministrativo a costituzione invariata, c'era una grande fiducia nella saggezza di porre nel livello territoriale più vicino ai cittadini il potere e quindi anche l'autonomia finanziaria, via, diamone di più alle autonomie territoriali, aveva anche le sue ragioni logiche, teoriche, pratiche, tanti esempi di successo nel mondo, il federalismo, c'è una prova contraria alla forma di governo più diffusa, sono più gli stati governati in modo federale che quelli propriamente accentrati nell'Occidente giuridico, nella tradizione giuridica occidentale e quindi sembrava un buon metodo, però il coordinamento allora lo mettiamo fuori, ne facciamo partecipare anche l'autonomia territoriale, comunque c'era sia prima che dopo, il coordinamento, nel 119 prima, nel 117 poi, e poi ci sono tante altre cose, c'è un principio di connessione tra risorse e funzioni, come lo chiamano i tedeschi, che c'era già nel 119 originario, anche se aveva, non si capiva bene perché, probabilmente non lo capiva bene nemmeno l'Assemblea Costituente, quando l'ha messo ne vedevano l'effetto pratico, ma non avevano ben presente a cosa servisse in un ordinamento davvero federale, come poteva essere quello americano-svizzero, questi sono gli esempi che erano presenti, gli esempi di successo, quando si è scritta la Costituzione, e le regioni non c'erano, prima in Italia, lo sapete bene, quindi l'autonomia propriamente politica di questi enti intermedi, che per carità non statali, non una federazione, non vogliamo tanto, però un po' di autonomia è meglio averla, e quindi si fanno le regioni, però i modelli di successo, Stati Uniti, Svizzera, la Germania federale, poi arriverà dopo come modello locomotiva d'Europa, però comunque, diciamo, l'Assemblea Costituente ha presente che un'autonomia territoriale, bene che ci sia, il modello di regolazione, lo si dettaglia bene, e quindi questi tre contenuti che vi ho detto, nel 119 poi c'è tanto altro, più un quarto contenuto, dettagliamo già bene anche quali sono le risorse di questa autonomia finanziaria, allora troviamo già nel 119 originario che queste regioni si finanziano con tributi proprio, quote di tributi erariali, e quindi questo 119 è un articolo molto ricco, già nella versione originale e ancora di più dettagliato nella versione 2001 che diventa ancora più lunga, ma i contenuti sono bene o male sempre quelli, l'autonomia finanziaria esiste, è sia di entrata che di spesa, queste regioni si finanziano con risorse proprie, queste risorse proprie devono essere adeguate, devono essere connesse alle funzioni, è una cosa molto più complessa di come è stata attuata poi, diciamo, di come l'aveva in mente l'Assemblea Costituente, di come è stata attuata nei primi tempi, e questo testo costituzionale ci dà tante regole, ci dà tante regole e queste regole rispondono a un modello, un modello che appunto, come vi dicevo, non è che l'Assemblea Costituente si inventa nulla, aveva presenti dei modelli di regolazione della finanza, delle autonomie territoriali e il modello che si segue senza nessuna esitazione nel dettare queste regole di dettaglio è quello della finanza autonoma e non della finanza derivata, ci sono queste due alternative quando si deve dare una disciplina, una regolazione, se il giurista pensa come regoliamo l'autonomia finanziaria ha queste due alternative, o connettiamo le risorse disponibili per un livello di governo autonomo a quello che quel territorio produce e allora è la cosiddetta regolazione con autonomia finanziaria oppure istituiamo un sistema di trasferimenti erariali e quella è la finanza derivata invece. La finanza derivata ha dei pregi, il primo pregio è che siamo sicuri che il principio di connessione è sempre rispettato, noi diamo a ogni livello di governo quello che quel livello di governo necessita perché c'è una decisione politica dall'alto, erariale, cioè del livello centrale, statale, federale, si direbbe negli Stati Uniti, che decide cosa serve a livello territoriale e lo trasferisce. È un modello need-oriented, orientato ai bisogni, quello che si è seguito nella devolution inglese ad esempio, perché non solo gli ordinamenti federali, anglosassoni, conoscono queste problematiche, anche il Regno Unito ha seguito il suo sentiero e lì non c'è finanza autonoma, c'è finanza derivata, la formula Barnett e tante cose di questo genere. Ma questo quando si è scritta la Costituzione non lo avevamo nemmeno in agenda, nello strumentario politico-giuridico dell'Assemblea Costituente e il modello di successo era sicuramente gli Stati Uniti, era sicuramente la vera autonomia finanziaria. Qual è il vantaggio del modello need-oriented? Rispettiamo il principio di connessione, non abbiamo bisogno di perequazione, tutti i territori riceveranno quello che è necessario per la loro amministrazione, ma non è quello che vogliamo. Quando vogliamo l'autonomia, quando si scrive la Costituzione italiana, sia presente invece un modello responsabilizzante come quello svizzero-statunitense, dove invece l'idea è o tributi propri o con partecipazione con quote di tributi erariali, però sempre connesse ai bisogni. Allora, l'Assemblea Costituente che scrive questo articolo della Costituzione scrive anche lo Statuto del Trentino Alto Adige. L'anno dopo la stessa Assemblea Costituente si scrive negli statuti che sono sempre leggi costituzionali e non ci sorprendiamo se nello Statuto del Trentino Alto Adige troviamo lo stesso modello che l'Assemblea Costituente aveva pensato per tutte le regioni. Ma per tutte le regioni si era pensato le finanzieremo con quote di tributi erariali o tributi propri e anche le regioni speciali allo stesso modo le finanzieremo con quote di tributi erariali o tributi propri. Quando si inizia a scrivere gli statuti speciali il problema si fa sempre più concreto, è sempre così, finché si rimane sul vago sembra che tutte le soluzioni giuridiche siano praticabili quando poi si va a vedere la realtà ci si accorge che non proprio tutto lo si può fare. Allora quando si dice ma tributi propri siamo proprio sicuri che ne possiamo affidare alle regioni già nel 48 si dice no, forse è meglio evitare. Allora tributi propri, spazi, basi imponibili per tributi proprio e davvero propri delle regioni speciali non ce ne sono. e non ce ne saranno per tutta la nostra storia. Gli unici tributi propri che mi vengono in mente al momento sono la tassa sulla raccolta del tartufo in Veneto San Franco Postal mi correggerà se nel frattempo è uscito qualcos'altro la tassa sul lusso della regione Sardegna che ha fatto una brutta fine sia perché la Corte Costituzionale non ne ha demolita una parte sia la Corte di Giustizia che la parte rimanente e il tubatico siciliano che non è nemmeno finito in Corte che era la tassa sul tubo il tubo di passaggio del gas dal Nord Africa però lì il giudice amministrativo se ricordo bene ha detto queste cose per cortesia non le potete fare nemmeno con l'autonomia finanziaria ma perché non c'è base imponibile libera per tante ragioni di buon senso l'ordinamento tributario italiano è stato mantenuto come dire fortemente accentrato più anche di quello che lo era in passato perché voi sapete che l'ordinamento italiano in realtà è sempre stato molto municipalista e quindi prima delle grosse riforme tributarie diciamo dei governi del centro-sinistra di una volta quello dell'alleanza tra della nuova alleanza tra democrazia cristiana e socialisti che era nuova negli anni sessanta prima di quelle riforme in realtà i tributi propri c'erano erano dei comuni però con delle regioni poi le regioni in realtà non ne hanno mai potuto fruire di veri tributi propri ma non vuol dire che non ci sia autonomia finanziaria il modello di autonomia finanziaria rimane nella costituzione ci se lo immaginava come fondato o su tributi propri o su quote di tributi erariali quando poi l'assemblea costituente fa partire le prime regioni le regioni speciali le fa partire come? le fa partire con le quote di tributi erariali i nove decimi per il Trentino Alto Adige poi qualche anno dopo con l'economia che va meglio e un po' meno competenze per il Friuli saranno sette sette e mezzo quello che è per la Sicilia che già aveva un pil più basso del Trentino e dell'Alto Adige che già lo avevano basso comunque all'epoca erano i dieci decimi la Sardegna un po' di meno però non tanto di meno ma perché? perché l'assemblea costituente che fissa queste cifre nove decimi di compartecipazione a quote di tributi erariali ha in mente il principio di connessione tra risorse e funzioni cioè definisce pensando com'è l'economia del Trentino e non è che sia un'economia agricola di montagna stanno scappando tutti in Belgio nelle miniere a lavorare in Sud America quindi non è proprio un'economia molto brillante cosa gli servirà per gestire le competenze che gli stiamo attribuendo in Statuto Speciale che è una legge costituzionale e gli serviranno a occhi e croci i nove decimi allora fissiamo la quota dei nove decimi e questa è la scelta la scelta dell'assemblea costituente si scrive lo statuto e questo è il modello modello che diventa un pochino più concreto di quello del 119 ma diciamo sempre sulla falsa riga di quello che l'assemblea costituente aveva in mente e allora abbiamo i nove decimi però un modello di finanza autonoma i nove decimi rimangono fissi nella carta dell'autonomia trentina sono nove decimi che restano lì perché è una legge costituzionale lo statuto e è un rischio il modello di autonomia finanziaria a differenza del modello di finanza derivata come vi dicevo prima nelle costruzioni diciamo anglosassoni quando ne parlano gli economisti americani con la K è un modello che come dire deve essere deve essere un rischio per chi ne gode nel senso che se la tua economia andrà male il PIL calerà ma sempre i nove decimi restano se l'economia va bene invece come dire i nove decimi che prima ti bastavano a stento per gestire le tue competenze saranno sovrabbondanti questo è come vedono le cose gli economisti quelli che credono davvero nel mercato e che trascurano un pochino anche i fallimenti del mercato e il ruolo della politica nelle gestioni di queste cose e però per il Trentino la scommessa va bene e diciamo non per altri territori ad esempio in Sicilia i dieci decimi non bastano a gestire tutte le competenze lo statuto della regione siciliana in realtà entra in tensione negli anni proprio perché diciamo il PIL della Sicilia non decolla anzi il potere diciamo d'acquisto dell'economia siciliana peggiora anche rispetto a quelle che sono le dinamiche di valore monetarie dell'economia italiana nel suo complesso in realtà molte delle competenze che lo statuto siciliano prevedeva di trasferire alla regione sicilia non vengono nemmeno mai trasferite perché l'economia siciliana non regge quella dimensione di competenze si dice la questione è più complessa ovviamente in un seminario bisogna rimanere per forza sul valgo però allora qui nascono i problemi evolutivi come vi dicevo a senso fare questo discorso sulla regolazione dell'autonomia finanziaria delle regioni speciali se si vede un pochino nella sua dinamica allora il Trentino ricevi nove decimi se l'economia andrà bene diventeranno sovrabbondanti se l'economia andrà male diventeranno insufficienti in realtà non è come se li immaginano gli economisti di Chicago queste queste dinamiche storiche le regioni speciali bisognose di perequazione sono sempre entrate per scelta politica nazionale anche nelle dinamiche perequative nazionali la sanità siciliana viene finanziata anche con il fondo sanitario nazionale è come giusto che sia perché è una logica perequativa come vi dicevo prima c'è un'esigenza di avere anche una connessione tra le risorse e le funzioni non si può smettere di fare servizio pubblico in alcuni territori rispetto ad altri l'economia trentina invece va bene ma anche questo è un problema perché va troppo bene allora vedremo che a un certo punto ci si deve mettere mano perché diciamo le risorse diventano diventano necessarie peraltro necessarie per risanare i conti pubblici ma questa storia è la storia che vi anticipavo prima l'accordo di Milano e quello che è successo dopo però noi siamo siamo ancora al 48 cosa c'è stato fra il 48 e l'accordo 1948 e l'accordo di Milano del 2009 c'è una lunghissima storia che si intreccia come avevo detto prima con l'evoluzione dell'autonomia finanziaria delle regioni invece speciali perché sapete che le regioni speciali entrano in servizio diciamo così molti anni dopo dal 70 c'è questa convenzio ad ex sudendum ci sono tante ragioni storiche legate anche alla guerra fredda al clima politico dell'epoca per cui le regioni vengono ordinarie vengono attivate molto dopo quelle speciali e negli anni 70 vi dicevo già nel 48 quando si è trattato di scrivere in concreto le regole del finanziamento autonomo delle regioni speciali ci si è resi conto che i tributi propri forse non era il caso di prevederli davvero nel 70 sono passati tanti anni si è appena fatta quella grossa riforma tributaria che vi dicevo prima che ha centrato nello Stato e poi soprattutto c'è già stato il boom economico eppure il nord e il sud dell'Italia sono ancora così diversi per quanto riguarda la capacità economica e in Parlamento ci si guarda negli occhi e si dice che si fa adesso davvero vogliamo implementare un modello di finanza autonoma come ce l'eravamo immaginato come se l'erano immaginato nel 47 fondato sulle quote di tributi erariali cioè sull'idea detto in parole e provere che quello che si produce in Basilicata è quello che deve finanziare il bilancio della Basilicata quello che si produce in Lombardia è quello che deve finanziare il bilancio della Lombardia in una quota fissa tipo i nove decimi o qualcos'altro parametrato ai bisogni cioè alle funzioni alla connessione con le funzioni è il Parlamento quando si tratta di approvare le leggi di finanziamento delle nuove regioni ordinarie evidentemente fare i conti con la realtà economico-finanziaria del paese e nonostante la Costituzione avesse ben chiaro che si voleva un modello di finanza autonoma si sviluppa nel 70 un modello di finanza derivata la Corte Costituzionale questo lo fa salvo perché dice adesso vi risparmio i ragionamenti giuridici di dettaglio ma sempre per semplificare al massimo si dice beh ma insomma la Costituzione dice che devono essere finanziate con quote di tributi erariali ma mica ci dice come dividere poi queste quote di tributi erariali fra le diverse regioni e allora a me Corte Costituzionale basta che si possa parametrare il fondo di finanziamento delle regioni nel loro complesso a una quota di compartecipazione ai tributi erariali e io sono tranquilla che l'autonomia nel suo complesso è tutelata ma è evidente che non c'era questo in mente quando si è scritta la Costituzione no? anche se si guarda i lavori dell'Assemblea Costituente non è che si pensava a questo meccanismo a un meccanismo cioè che dà secondo il bisogno non secondo la produzione no? il modello di finanziamento è un modello di finanziamento con trasferimento erariale con una formula che prende in considerazione tante grandezze tanti parametri l'orografia l'età della popolazione no? tanti parametri legati al bisogno di quel territorio regionale e tra questi parametri c'è anche la capacità tributaria è però presa al contrario cioè meno gettito produce un territorio più soldi dovremmo dargli per la gestione delle sue funzioni autonome perché è segno se produce poche tasse che anche il PIL è basso e quindi bisogna investirci di più per la crescita e qui ci sarebbe da fare un enorme discorso sulle diverse politiche di sviluppo del mezzogiorno in quegli anni che non sono politiche per equative perché non c'è senso ad avere un fondo per equativo all'epoca proprio perché il modello sviluppato per primo in Italia per le regioni ordinarie è un modello di finanza derivata e allora vi dicevo questo poi ha un impatto sulle regioni speciali voi immaginatevi gli anni 70 la logica è noi costruiamo le regioni ordinarie prendendo fette di amministrazione ministeriale e trasferendole alle regioni prendiamo gli uffici il personale le competenze anche la fetta di risorse parametrata ai bisogni need oriented e trasferiamo tutto trasferimento erariale delle risorse trasferimento degli uffici poi le duplicazioni ovviamente sono parte della storia patria di quel periodo però questa è la logica prendiamo pezzi e trasferiamo alle regioni ma anche le regioni speciali avranno qualcosa da prendere in questa grande spogliazione degli apparati ministeriali centrali che si verifica dal 70 in poi alcune cose che vengono fatte fare alle regioni ordinarie non erano previste dal 70 in poi non erano previste negli statuti speciali ma vogliamo far fare alle regioni speciali meno cose di quelle che faranno le regioni ordinarie assolutamente no e allora nascono i finanziamenti sulle leggi di settore no? alcune leggi attribuiscono competenze nuove alle regioni speciali ma devono dargli anche una fettina no? di bilancio in più secondo una logica di trasferimento erariale no? e allora il bilancio delle regioni speciali no? si arricchisce man mano che si arricchisce anche il paniere delle competenze è una logica tutta diversa da quella degli anni 90 no? che Gianfranco Postal ha visto da vicino e invece è quella del trasferimento dagli anni 90 poi ancora di più dopo trasferimento di competenze invece con salvezza dell'erario che è un po' rovescio di quello che è stato come si può dire l'aumento delle imposte con salvezza no? dell'erario quello è un altro discorso magari non andiamo troppo sul tributario che altrimenti davvero annoiamo annoiamo oltre oltre il lecito cosa succede allora? diciamo anni 70 anni 80 sono anni di crescita del regionalismo ordinario con una logica di trasferimento erariale delle risorse perché la logica è quella di non dover poi perecuare ma dare a ciascuno di quello di cui ha bisogno ciascun territorio insieme a quelle fette di apparato amministrativo centrale che si trasferisce per costruire le regioni ordinarie le regioni speciali non sono indenni diciamo da questa stagione e arricchiscono ancora di più il loro paniere di competenze e di risorse ma allora se le risorse del Trentino erano i nove decimi prima diventeranno i 9,1 9,2 9,3 man mano che nuove competenze vengono trasferite con nuove risorse e poi ci sono anche altre dinamiche che diciamo arricchiscono il bilancio delle autonomie speciali in questa stagione ma non è una stagione che dura in eterno voi sapete che gli anni 80 sono gli anni della Milano da bere di quella grande stagione di euforia dell'economia italiana ma che poi diciamo si scontra con le dinamiche anche non non eterne della diciamo della crescita fondata anche su bilanci su bilanci allegri nel 78 nascono le finanziarie omnibus nasce la prassi degli assalti alla diligenza non la prassi ma diciamo diventa così evidente che giornalisticamente si inizia a parlare di assalto alla diligenza quando si scrivono i bilanci diciamo gli anni 80 sono anni di crescita ma inflazionistica dell'economia italiana non può durare in eterno a inizio anni 90 c'è c'è la doccia fredda diciamo così dell'uscita della lira dallo smè ci sono gli obiettivi di ingresso dell'Italia nella moneta unica dopo Maastricht e i conti devono essere rimessi in regola anche questo un discorso per semplificare oltre il vero simile un discorso che potrebbe essere molto più complesso però cambia cambia la direzione di questa evoluzione dell'autonomia finanziaria ci sono anche gli anni di tangentopoli c'è una grande sfiducia nella politica dei partiti nazionali ma poi la società per funzionare deve pure aver fiducia in qualcosa allora nasce la grande fiducia nell'autonomia invece vicino ai cittadini i comuni le città le regioni la questione settentrionale della Lega Nord la Lega Nord ancora di Bossi Bossi in canottiera vi ricorderete quella stagione di forti tensioni sulla questione settentrionale che porta con sé la critica delle politiche per il mezzogiorno degli anni precedenti fatte al di fuori di un chiaro schema per equativo erano gli anni della cassa per il mezzogiorno non delle politiche per equativo insomma tutto questo clima storico politico che così non sto qui a tratteggiarvi ma su cui ci si potrebbe soffermare per ore e le regole che vengono scritte ovviamente sono regole che si rapportano a quel clima a quel contesto e negli anni 90 cambiano completamente le regole le regole che si iniziano a scrivere negli anni 90 per la finanza territoriale regionale sono regole che riportano il modello alla finanza autonoma basta logica del trasferimento erariale logica della compartecipazione a quote di tributi erariali cioè vera autonomia finanziaria si attua potremmo dire con le leggi Bassanini e tutto il contorno finanziario delle leggi Bassanini per la prima volta in parte perché poi la legge delega del 99 che doveva fare ordine rimane incompiuta inattuata quindi in realtà diciamo solo in parte ma questo è vero anche oggi il fondo di finanziamento della sanità non è che oggi segua rigorosamente logiche di finanza autonoma però comunque lo spirito dell'ordinamento lo spirito delle regole di finanziamento delle regioni si sposta dal trasferimento erariale alla finanza autonoma e nasce il problema di perequare cioè noi vogliamo che le risorse di principio rimangano sul territorio per finanziare le amministrazioni di quel territorio logica da finanza autonoma con partecipazione a quote di tributi erariali tributi istituiti proprio per essere regionali l'IRAP disciplinati dallo Stato ma perché rimangano a finanziare l'ente regionale o che altro e però però allora nasce un problema alcuni territori non possono reggersi con quelle risorse e basta bisogna introdurre la logica perequativa nascono i fondi perequativi che però rendono trasparente il trasferimento o dovrebbero rendere trasparente o la volontà politica che rendano trasparente il trasferimento di risorse da alcune zone ad altre del paese e lì c'è la lunga storia dell'implementazione della perequazione in Italia da modelli di finanza storica quindi bisogno storico a modelli invece di costo standard la grande riforma del 2009 di attuazione del cosiddetto federalismo fiscale perché come vi dicevo la riforma del 99 di finanziamento sistematico delle regioni rimane inattuata in gran parte nel 2001 si riforma invece la costituzione per dare nuovo impulso a queste riforme degli anni 90 delle Bassanini o così si voleva fare e poi solo nel 2009 si implementa la riforma del 2001 dell'autonomia finanziaria con il cosiddetto federalismo fiscale che non può essere davvero federale ovviamente perché non siamo un ordinamento federale che però sul tema della perequazione che è il vero tema su cui incide fa un cambio di paradigma epocale portando la logica dalla spesa storica a quello dei costi standard questo è il contesto nazionale come vi dicevo l'autonomia delle regioni speciali non può rimanere indifferente a questa evoluzione nazionale e allora cosa succede Gianfranco Postal ve lo può testimoniare in tutte le diverse fasi in tutte le diverse diciamo così entusiasmi e delusioni che questo percorso può aver incontrato negli anni 90 come vi dicevo a inizio anni 90 è il momento della crisi il modello di finanziamento italiano sia nazionale non è che fosse colpa delle regioni se c'era l'inflazione e il debito pubblico sia regionale non funziona più bisogna fare ordine nei conti bisogna far tornare i conti del bilancio statale non è solo che ce lo chiede l'Europa è proprio che i conti non tornano e allora che si fa in tutte queste situazioni e i soldi si vanno a cercare dove ci sono e dov'è che c'erano i soldi c'erano alcune realtà territoriali particolarmente virtuose Trentino e l'Alto Adige l'Alto Adige per la verità ancora più del Trentino ha conosciuto nei decenni livelli di crescita economica per cui gli altoatesini non hanno nulla da invidiare ai bavaresi come pil pro capite allora è vero che c'era la scommessa dell'autonomia finanziaria i nove decimi sono garantiti dallo statuto da una legge costituzionale e però si inizia a dire è vero e tante volte quando si fanno questi seminari un po' divulgativi come oggi c'è sempre qualcuno dal pubblico che dice beh ma insomma i nove decimi sono previsti in legge costituzionale ma allora perché abbiamo rinunciato ai nove decimi chi ci governa è una manica di diciamo cosa sono degli inetti c'era la legge costituzionale perché rinunciare che avvocati ci difendono sono davvero degli avvocati pessimi in corte costituzionale ma non è proprio così semplice non è proprio così semplice perché la corte costituzionale voi sapete che nel 97 l'Unione Europea introduce il patto di stabilità e crescita nel 99 viene sviluppato come patto di stabilità interno anche qui non voglio ammorbare il pubblico entrando nei dettagli di questi strumenti che sono meno noiosi di quello che può sembrare ma adesso sono superati tra l'altro dalla logica dell'equilibrio di bilancio però la corte costituzionale da subito dice beh ma noi questo patto di stabilità interno lo vogliamo applicare anche le regioni speciali non è che vi diciamo a voi regioni speciali che i nove decimi garantiti dallo statuto non sono vostri ma voi dove eravate negli anni 80 quando abbiamo fatto il debito pubblico ah sì anche voi mi pare avete speso più di quello che c'era allora adesso pagate anche voi per far tornare i conti e quindi il patto di stabilità interno non è nient'altro che questo è ridurre il livello di spesa per il risanamento dei conti pubblici non a caso poi il patto di garanzia non è che si riferisca alla perequazione fa riferimento al debito pubblico ma questi sono anche discorsi tecnici che non è il caso di fare qui e che hanno la loro hanno o potrebbero avere o magari avrebbero avuto se non ci fosse stata la pandemia la loro ragione d'essere per il futuro però la logica è questa capite la Corte Costituzionale non è che dice no la legge costituzionale statuto di autonomia non è più valida e voi non avete più i nove decimi no no i nove decimi ci sono i nove decimi ci sono sempre ma ci sono delle ragioni di contabilità pubblica che non li fanno spendere tutti perché una parte deve essere destinata a una finalità costituzionalmente ammissibile che è quella del risanamento dei conti pubblici nazionali che sono un consolidato come si dice no tecnicamente anche dei bilanci delle autonomie speciali e quindi non è che non è che ci si può chiamare fuori da queste logiche di bilancio consolidato e allora anche queste regioni speciali devono partecipare al patto di stabilità interno e tante altre cose no la riserva all'erario di quote di sovragettito per quando si aumentano le imposte eccetera eccetera e poi che altro beh da inizio anni 90 non solo questo vengono proprio a chiedere i soldi no e nelle leggi finanziarie che non sono più finanziari omnibus nel frattempo perché si inizia a riformare anche la contabilità pubblica nazionale si vorrebbe chiedere alle autonomie speciali del nord Italia che i soldi ce li hanno di dare una parte di questi soldi cash si direbbe proprio in mano al ministero dell'economia o alla ragioneria dello stato per le finalità ma è lì nasce una prassi importante invece per l'autonomia speciale delle regioni del nord Italia e del 31 Alto Adige in particolare che è quello di dire no no noi non ve li diamo i soldi a voi a Roma invece che darvi i soldi ci prendiamo competenze no ci prendiamo competenze ma non più con anche le risorse come si faceva prima ce le prendiamo con salvezza dell'erario e questa è una dinamica importante perché non è che l'inevitabile riduzione della capacità di spesa delle autonomie speciali in questa stagione di crisi dei bilanci pubblici che è una stagione mondiale non è in alcuni paesi primi in altri paesi dopo ma la crisi della capacità di spesa dello Stato occidentale è una cosa che non è che sia solo italiana però diciamo in questa grande stagione il Trentino che comunque un pochino all'inizio e molto di più dal 2009 in poi vede calare il bilancio la quota di risorse nel suo bilancio però almeno ci guadagna in competenza fa cose che prima venivano fatte dallo Stato e almeno l'autonomia nel suo complesso cresce o almeno questa è la volontà politica nell'assumere nuove competenze ad esempio la competenza di finanziamento dell'Università di Trento la competenza sugli ammortizzatori sociali questi sono previsti nell'accordo di Milano ma altre cose prima adesso anche il personale di cancelleria degli uffici giudiziari in Trentino addirittura è provinciale in realtà è una delega alla regione questa però comunque l'autonomia cresce con salvezza dell'erario e questa è la logica che troviamo ancora nell'accordo di Milano perché l'accordo di Milano dà questa accelerata perché quando per le regioni ordinarie si scrive la legge delega sul federalismo fiscale nella 42 del 2009 c'è un articolo 27 che dice per carità le regioni speciali hanno le loro norme di attuazione i loro statuti che sono norme super rigide non le possiamo modificare con legge però il Parlamento dice con questa legge ordinaria noi cortesemente chiediamo che anche le regioni speciali si adeguino a questo nuovo sistema e voi sapete che cortesemente chiedere quando in realtà ci sono ragioni di coordinamento della finanza pubblica che la Corte Costituzionale riconosce legittime vuol dire va fatto l'accordo allora l'accordo di Milano è un primo accordo dove sostanzialmente si riporta ai nove decimi la quota vera di risorse e si cancella tutto il resto tutto quello che era in più e si danno nuove occasioni come dire di alleggerire il bilancio dello Stato perché ci sono altre deleghe di competenze con salvezza dell'erario ma poi questo non basta nel 2014 si fa il cosiddetto patto di garanzia perché negli anni successivi lo Stato ha continuato comunque a chiedere di più alle regioni speciali che se lo potevano permettere per risanare i conti pubblici allora l'accordo il patto di garanzia ci dice riformando lo statuto non ancora una volta tra l'altro con legge ordinaria perché si può previo accordo per la parte finanziaria dello statuto ci dice il patto di garanzia i nove decimi rimangono la quota di risorse che finanzia l'autonomia trentina però però visto che bisogna risanare i conti pubblici il debito pubblico è alto noi definiamo una somma che verrà aggiornata di anno in anno secondo l'andamento del debito pubblico perché questa somma faccia partecipare il Trentino e l'Alto Adige a questa finalità nazionale di risanamento dei conti pubblici ma almeno sappiamo com'è almeno sappiamo programmare come amministrazione trentina quale sarà questa somma e questo non è scontato per le altre regioni ordinarie ma anche per tante di quelle speciali questo è frutto di negoziazioni annuali non è che ci si possono fare grandi programmi chissà cosa succederà poi in realtà voi direte ma è successo il covid e questo ha sparagliato le carte di nuovo è vero c'era anche una disciplina per i casi eccezionali ma qui il jet-tick è calato molto e ci sono tutte le problematiche connesse al covid che vi potete immaginare però quello che vi volevo rappresentare in questa chiacchierata che voleva essere molto leggera è come l'autonomia speciale del Trentino e dell'Alto Adige è un'autonomia speciale che è regolata in un certo modo perché si colloca in un certo percorso storico e ha conosciuto delle modifiche di questa regolamentazione che hanno le loro ragioni storiche e pratiche e diciamo così questa disciplina che oggi fornisce al Trentino e all'Alto Adige una certa quota di risorse davvero autonoma perché dipende dalla capacità di gettito locale è autorresponsabilizzante per l'economia la classe dirigente locale l'amministrazione locale e partecipa in una certa misura più che alla perequazione diciamo così alle esigenze finanziarie consolidate nazionali che forse è più corretto dirlo in questo modo perché c'è un meccanismo nel patto di garanzia che definisce qual è questa quota di compartecipazione ecco tutto questo modello di regolamentazione è un modello di regolamentazione che ha dato forse negli anni al Trentino e all'Alto Adige una marcia in più rispetto ad altri territori una marcia in più in certe fasi storiche perché c'erano tante risorse e forse questo è vero e in altre fasi storiche come quelle che si vivono adesso di riduzione della quota di bilancio provinciale a cui si era abituati danno comunque una garanzia di certezza di programmabilità di conoscibilità di qual è il perimetro finanziario dell'autonomia che anche quella non è una cosa scontata che è una cosa che tante volte anzi è sofferta da altri territori nazionali pur gestiti bene pur amministrati bene e che però ci invidiano forse non solo la quantità di risorse che quello è un discorso forse oggi più giornalistico che non reale ma sicuramente una vera autonomia finanziaria che non è solo avere tante risorse ma anche poterle diciamo prevedere in modo certo e gestire in modo davvero consono a un autogoverno quindi a scelte davvero locali e autoresponsabili però questo è il modello questo è il perimetro delle regole molto semplificato molto come dire molto molto tratteggiato quasi da impressionisti però spero che vi sia passata quantomeno l'immagine dell'evoluzione nel tempo e con questo diciamo ridarei la parola a Gianfranco Postal e grazie dell'attenzione a chi ha seguito grazie grazie Flavio dire che siamo è riuscito a darci un'immagine molto nitida di una grande complessità colgo proprio queste parti finali della programmabilità della certezza delle fonti di entrata che è quella che dà poi consente veramente all'autonomia di ideare e di svolgere politiche perché chiaramente per fare delle politiche e fare quindi delle scelte di lungo periodo sui servizi pubblici sulla sanità sull'istruzione eccetera serve avere certezza e programmabilità delle risorse tanto più quando sono più limitate di prima perché nell'abbondanza ci sta tutto quando invece le risorse sono più limitate in quanto devono subire anche questo concorso devono essere utilizzate per il concorso agli obiettivi nazionali quindi si ha una responsabilità che non è solo sul proprio territorio solo sulla propria comunità ma anche verso la comunità nazionale quando parliamo appunto di bilancio pubblico si dice bilancio dello Stato ma il bilancio dello Stato è in realtà il bilancio delle pubbliche amministrazioni dove ci sta dentro tutto quindi anche l'Inps l'Inai le pensioni i contributi sociali eccetera quindi in realtà ci stanno tutte le politiche pubbliche queste autonomie speciali così impostate condividono nel bene e nel male nella buona e nella cattiva sorte la buona e nella cattiva sorte condividono questa programmabilità questa 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 governabilità vera governabilità che del resto ci come dire ci deriva anche dal fatto che proprio con soprattutto con l'accordo del 2014 cosiddetto patto di garanzia che ha citato Flavio e alle alle province proprio alle due province autonome viene riconosciuta una funzione che è quasi identica a quella dello Stato come si dice in proporzione che è quella del coordinamento del sistema pubblico territoriale di finanza pubblica per lo Stato in sostanza dice voi Trento e Bozzano che avete la maggior parte della spesa pubblica la maggior parte delle funzioni pubbliche nella vostra nella vostra disponibilità di governo e quindi nella vostra responsabilità vi prendete la responsabilità di garantire i risultati che noi concordiamo a livello nazionale quindi Stato e Provincia Autonome concordano gli obiettivi di partecipazione delle due province agli obiettivi nazionali e le Provincie Autonome fanno le loro politiche di coordinamento quindi agendo in parallelo in questo modo il sacrificio è dovuto nel senso che se bisogna ottenere un certo risultato di contenimento della spesa ma i modi con i quali e sui quali puntare quindi i settori della pubblica amministrazione e intervento pubblico sui quali puntare e le modalità con le quali realizzare questo non solo per la provincia in sé ma anche per la regione per i comuni per gli enti sovracomunali per le camere di commercio per la stessa università vengono decisi a livello locale con le politiche di bilancio e di finanza pubblica delle due Provincie Autonome questo è un sistema che si è realizzato in Italia soprattutto in due territori nel Trettenato Adige e nel Friuli Venezia Giulia dove diciamo c'è una connessione di come dire di coinvolgimento anche se vogliamo di positiva imitazione con la quale si tende a valorizzare il più possibile le come dire le potenzialità dell'autonomia ecco detto questo passare la parola a chi vuol fare una domanda a chiedere il Dottor Guella per la strutturazione veramente liquida chiarissima ecco avrei un quesito un quesito che riguarda una premessa dunque tutte le regioni di Stato Autonome Italia Sardegna Sicilia Guadalosta Guadalco Giuli eccetera sono nate hanno un genere storico molto simile molto comune nel senso che bisognava come dire costruire una cintura di sicurezza anche di antifedizione noi conosciamo la storia del Dottor Guella sento sento un po' male sento adesso adesso sento un po' meglio sì ora ora per nulla io non sento più del tutto adesso adesso sì adesso sì ok allora nasce dalla preoccupazione di scongiurare la sezione ad Oc come a Sop perché anche a Sop furono i minimi di questi schermi e questo è un dato importante è un dato importante e che allora era una preoccupazione molto forte adesso ovviamente la sezione è mutata tant'è vero che lo stesso risposta che ha dato lo Stato alla minaccia di secessione negli anni 90 a metà degli anni 90 da parte della Lega è stato un incremento delle competenze nella regione Lombardia e una volta mi sono prendo la briga di andare a vedere quante competenze erano state attribuite e mi pareva che addirittura fossero al pari di quelle del provincio di Trento quindi del Trentito e questo è di per sé molto significativo l'unteriore allora la mia domanda è se è vero che le regioni di Statuto Autonomo più o meno secondo del loro hanno la possibilità di essere come dire così virtuose da meritare l'attenzione dello Stato nella richiesta di finanziamenti aggiuntivi integrativi perché allora regioni come l'Emilia Romagna che hanno una capacità produttiva gigantesca Veneto la stessa Lombardia non vengono come dire insignite dell'autonomia perché non è pure richiesto da loro lo Stato non avrebbe interesse a concedere un'autonomia che si prefigurerebbe come motore di praticamente di una di una pluritezza economica che poi sarebbe l'interesse dello Stato perché può prelevare risorse adesso io per verità può essere di una domanda ingenua ma mi sembra che potrebbe funzionare senza togliere nulla naturalmente alle autonomie già esistenti che pure sono prospere al nord mentre al sud io mi chiedo perché la Sicilia debba avere 10 decimi e la Calabria invece lasciata a se stessa è una differenza di San e il cittadino che diciamo ignorante come sono io mi chiede ma qual è il motivo perché in fondo sono una regione e l'altra sono costimili hanno problemi simili hanno diciamo problematiche ataniche simili e perché deve esserci questa differenza per lì altro che poco prego ma allora come dire la domanda è una domanda intelligente ma molto ampia diciamo così e diciamo già la domanda no fintamente ingenua come dire contiene in sé i sintomi no della della risposta ma non c'è nulla non c'è nulla di semplice univoco no questo è il punto non è che le regioni speciali sono nate perché c'era una chiara e univoca volontà secessionistica e questa era la risposta quello è uno degli ingredienti dei moltissimi ingredienti storici economici politici giuridici che hanno portato diciamo così al riconoscimento dell'autonomia speciale ad alcune regioni speciali e non ad altre banalmente per il Trentino Alto Adige sarà il patto dei gas per i guber tutt'altra questione che la secessione allora quindi la nascita di alcune autonomie speciali nell'immediato dopo guerra in Italia ha un set molto ampio di ragioni storico politiche economiche culturali tradizionali di risposta alle esigenze future di contesto di quello che ci si fosseva immaginare sarebbe stato il contesto geopolitico di gli a dieci anni moltissime ragioni e quella come tutte le vicende storiche è una vicenda da contestualizzare all'epoca alcune di queste ragioni sono cambiate negli anni alcune non sono più valide ma ce ne sono nate altre invece la famosa questione del laboratorio di buon governo che vale forse di più della tutela delle minoranze tutti questi discorsi che sentiamo da tanto tempo e che hanno tutti la loro dignità e il loro fondamento ci fanno dire che il fenomeno dell'autonomia speciale è un fenomeno storicamente culturato come tutte le cose fatte dall'uomo e che ha avuto un'evoluzione storica e che ancora oggi ha la sua vitalità che è in parte giuridica in parte reale in parte reale nel senso nella realtà socio-economica diversa da regione a regione è evidente l'autonomia speciale del Trentino non è quella della Sicilia ma non voleva nemmeno esserlo appunto le autonomie speciali sono conferite regione per regione con uno specifico statuto speciale diverso e con un set di norme di attuazione che poi è quello che conta davvero per farla vivere l'autonomia speciale è diverso da regione a regione allora non è strano che le autonomie speciali siano diverse tra loro sul fatto se alcune autonomie speciali siano come dire scadute siano fuori fuori tempo massimo non siano più al passo coi tempi ma allora io non da giurista non ho le competenze per dare risposte su questo quello che diceva lei su Sicilia e Calabria si colloca nel problema dello sviluppo del mezzogiorno d'Italia più in generale e quale sia la ricetta giusta per sviluppare il mezzogiorno d'Italia se sia più autonomia o meno autonomia non è che sia io a dirlo probabilmente è possibile con tutti e due modelli una scelta politica bisogna seguire un pochino diciamo quello che l'economia consiglia e quello che la popolazione vuole in un ordinamento democratico è sempre difficile trovare il giusto bilanciamento da giurista poi una volta che si è scelta una via bisogna dettarle regole a volte sono regole scritte male che contribuiscono a non far riuscire diciamo così la frittata o la ciambella con il buco e quindi anche i giuristi hanno la loro quota di responsabilità ma io non so dirle qual è diciamo il modo migliore per sviluppare il mezzogiorno d'Italia l'unica cosa che diciamo perché il discorso sia un pochino culturalmente come dire fondato è non lasciarsi mai illudere dal fatto che non è che lo Stato lasci la Calabria in balia di se stessa dando i dieci decimi alla Sicilia e niente alla Calabria è solo diversa la qualità della spesa pubblica non la quantità nel senso cioè la quantità di spesa pro capita è sempre quella solo che in alcuni casi o è tendenzialmente sempre quella o a volte anche più alta in territori in cui ci si aspetterebbe che senza autonomia speciale avessero di meno però la cosa diversa è questa spesa te la diamo come spesa statale sul territorio o te la diamo come spesa autonoma su cui delibera la tua assemblea regionale questa è la cosa diversa ai cittadini talvolta non interessa assolutamente nulla di questo è la famosa questione del residuo fiscale di tutte queste cose su cui potremmo aprire un'altra parentesi da chiudere poi fra una settimana e non è proprio il caso di farlo però non facciamoci prendere diciamo così perché poi la ricetta per la rivendicazione politica è sempre dire noi abbiamo di meno di altri ma non sempre è vero a volte semplicemente è diversa la centrale di spesa però è anche vero che chi spende non è indifferente se spende lo Stato la qualità della spesa non è indifferente però per dire non è che la spesa statale sia uguale in tutta Italia qualitativamente oltre che quantitativamente nel senso che non so la scuola è territorializzata solo in Trentino del tutto nemmeno in Alto Adige è del tutto territorializzata cioè gli insegnanti in Alto Adige non sono dipendenti della provincia di Bolzano come invece sono dipendenti della provincia di Trento da noi nel resto d'Italia la scuola è tutta statale del tutto però se guardate gli indicatori di chi si occupa di queste cose non definiti da me evidentemente la qualità della scuola in alcune regioni è alta in altre è bassa anche se le regole sono le stesse la gestione amministrativa è la stessa le risorse pro capite sono le stesse allora ci sono tante ragioni per cui diversi territori italiani hanno diverse performance diciamo così economico amministrative è vero quello che dice lei però ci sono delle ragioni storiche per la specialità che non necessariamente come dire sono state tenute aggiornate tanto quanto alcune parti del territorio italiano vorrebbero per venire all'altra parte della sua domanda ma la specialità conviene allo Stato oppure no cioè il Trentino e l'Alto Adise con questa dinamica di crescita hanno portato risorse nelle casse statali ma questo è un discorso difficile da fare cioè non 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 è che dando più autonomia alla Lombardia le imprese Lombarde produrrebbero automaticamente di più o non è detto che con cioè sono sistemi economico imprenditoriali che possono raggiungere buonissimi risultati a prescindere dal contesto no io da giurista pubblicista che si occupa di pubblica amministrazione lo dico spesso anche ai colleghi ma non è detto che la risposta sia sempre ci serve più diritto pubblico tante volte la risposta è nel diritto privato no le dinamiche vere di sviluppo dell'economia tante volte vengono più dall'Unione Europea e da come l'Unione Europea ridefinisce diciamo così gli incentivi per le imprese alla concorrenza al rispetto del consumatore eccetera eccetera non bisogna avere troppa fiducia nella ricetta pubblicistica ad ogni costo le performance economiche del Veneto e della Lombardia sono ottime senza autonomia speciale e non è detto che con l'autonomia speciale avrebbero fatto meglio della Baviera no diciamocelo probabilmente quella è la loro resa economico imprenditoriale perché quello è il tessuto economico reale che tante volte è legato alle dinamiche tante volte che al 99% nella nostra economia sociale di mercato che è regolata dall'Unione Europea più che dall'Italia a Roma o dalla provincia di Trento a Bolzano quella è le regole del gioco economico oggi quelle sono poi è vero che per quella piccola parte di sviluppo che può essere nelle mani del pubblico anche nella complessità delle nostre società occidentali globalizzate più o meno avere l'autonomia speciale può essere una marcia in più ma non necessariamente cambia la performance così tanto come magari ci si può aspettare comunque non ho la sfera di cristallo e non so fare previsioni ma tutto questo solo per introdurre l'unica risposta possibile alla sua domanda è lo strumento in costituzione c'è il regionalismo differenziato ma non ci si deve aspettare ancora una volta che sia uno strumento dirompente nel senso che il regionalismo differenziato è ancora una volta è stato scritto nel nel 114 ultimo comma pensando a certe cose magari come verrà attuato se verrà attuato sarà una cosa ancora diversa perché arriverà in una fase storica ancora diversa e come vivrà nell'ordinamento e nella realtà dei prossimi decenni magari porterà risultati del tutto diversi da quelli che abbiamo in mente adesso perché le regole comunque vivono nella loro epoca allora come dico sempre adesso sì grande fiducia nell'autonomia purché ci si renda conto che è calata in un contesto che come dire che comunque vincola le scelte e le possibili direttrici di sviluppo no? la traiettoria del Trentino e dell'Alto Adige è stata una traiettoria sicuramente buona sicuramente di grande crescita che ha intercettato grandi opportunità degli anni del dopo pacchetto no? dopo che si è chiuso il pacchetto col secondo statuto c'è stata una grande fase di sviluppo ma era una fase storica che aveva certe caratteristiche e ha cavalcato una certa fase della storia italiana aveva le sue ragioni e non è che non è che in Veneto in Lombardia adesso se diamo lo statuto che per il Trentino è stato scritto per chiudere l'avvertenza con l'Austria alle Nazioni Unite no? nata negli anni 50 gli diamo quel pacchetto giuridico di regole alla Lombardia e al Veneto non facciamo una buona azione nei loro confronti no? cioè io mi aspetterei una se prendiamo quelle norme di attuazione pensate per quell'epoca per quella fase storica gli diamo al Veneto il povero Zaia immagino che si troverebbe in grandi difficoltà no? servono sempre regole aggiornate al contesto all'epoca e sicuramente quelle che si stanno studiando rispondono alle esigenze di adesso non si può entrare nel merito adesso in un seminario come questo però quello che volevo dire per rispondere alla sua domanda regole speciali sono sempre una cosa che è legittimo rivendicare per chi ha in mente un progetto politico consapevole speciale ma non è detto che devono essere quelle degli altri altrimenti non sono davvero speciali come le regole del Trentino sono state costantemente tenute aggiornate con nuove norme di attuazione se noi ci ritrovassimo il pacchetto scritto negli anni 60 e solo quello non penso che l'amministrazione provinciale lavorerebbe molto non so Gianfranco Postal cosa ne pensa ma penso che sarebbe un po' un disastro e quindi questo la specialità sicuramente è un buono strumento non può essere pensato come lo strumento per lo sviluppo economico sono altre le regole che portano allo sviluppo economico e non è che la specialità di una volta vada bene anche per il futuro e questo è diciamo il livello come dire di vaghezza su cui posso rimanere per rispondere a una domanda in questo contesto grazie grazie molto mi sente? sì 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 adesso sento bene grazie molte e certamente non ecco grazie certamente non è il caso di proporre una trasposizione della specialità trentina però come dicevo prima la regione Lombardia ha ottenuto tante tante competenze potenziali non le ha non le ha sono potenziali però insomma mi sembrava perché poi basta dare concedere qualcosa senza usando un nome diverso perché il problema naturalmente che si dà l'autonomia della Lombardia però dopo la devi dare a tutti il resto del territorio evidentemente ci sono vari modalità diciamo di risposta alle richieste delle regioni che sia il penetro dell'Unione Romana con la Lombardia con il tuo punto adesso sono in Lussemburgo sicuramente è invidiabile il contesto economico sociali istituzionali di Lussemburgo ma non è che se prendiamo il Granduc e lo portiamo a Trento automaticamente l'economia trentina però ci sono cose come dire macroscopiche ad esempio tutte le aziende italiane abbiano la sede fiscale in Olanda o in Irlanda tutte non tutte no però capisco allora questo vuol dire che c'è qualcosa che non è sicuramente ci sono cose molto complesse anche fuori del diritto pubblico che portano a quelle dinamiche direi che non è molto eco e non è molto europeo questo sistema del dumping che sa comunque questo è un altro esige la convergenza delle politiche fiscali non solo non solo le politiche di bilancio ma anche le politiche fiscali ma voglio dire voglio dire no no poi finisco ma i parlamentari i parlamentari europei i parlamentari europei dovrebbero lavorare in questa direzione e non perché continui a lamentare delle imposizioni da Bruxelles ma se i parlamentari italiani europei quando vanno a Bruxelles o a Strasburgo cosa fanno? Si impegnano nell'influire sulle decisioni che vengono prese sul fronte economico finanziario commerciale eccetera e dopo ci ralentiamo delle diciamo iniquità che l'Italia deve subire cosa fanno? Abbiamo visto la cronaca recente abbiamo visto che si occupano alcuni almeno si occupano di tutt'altro ecco ringrazio di nuovo il dottor Well e ci diamo alla conclusione grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie Flavio io concludendo volevo solo portare due dati e riprendere due dati il primo era per precisare che le nuove competenze della Lombardia in realtà sono le nuove competenze di tutte le regioni a statuto ordinario solo che sono state introdotte con la legge costituzionale del 2001 qual è però il dato di fatto che quello che leggiamo in norma per esempio in articolo 117 della costituzione che effettivamente dà un'ampiezza rilevantissima alle sfere di autonomia di tutte le regioni in realtà dopo il 2001 si è fermato nel senso che il processo di attuazione di quel progetto si è fermato in particolare proprio dal 2001 poco dopo dal 2003 quando con la legge di attuazione della riforma costituzionale di titolo quinto c'è in realtà dato lo stop a tutto il processo e questo lo si dimostra con un dato la Lombardia che hai citato Presidente dedica l'83% delle risorse del proprio bilancio corrente alla sanità se vi aggiungiamo il trasporto pubblico locale che è un altro 11-12% arriviamo al 95% quindi vorrebbe dire questa è una dimostrazione molto empirica quindi mi scuserà Flavio con 5% avrebbe un'infinità di competenze in realtà non le ha quelle competenze le continua ad esercitare lo Stato mentre la sanità a Trento a Bozzano pesa il 25% a Bozzano ancora di meno ma da Osta ancora di meno questo perché non perché nel Trentino e l'Alto Adige non si spende per la sanità ma perché il Trentino e l'Alto Adige hanno tutte le altre competenze che nessun altro ha comprese le altre autonomie speciali con la via di mezzo del Friuli Venezia Giulia mentre per quanto riguarda Sicilia Calabria altra precisazione è chiaro che sul fonte delle risorse detta come l'hai detto tu Presidente c'è una disparità una diversità ma sul fronte della spesa la spesa pubblica complessiva in Calabria e Sicilia è più alta se poi la vediamo con proprio la spesa pubblica proprio tutta mettendo dentro anche in fine eccetera vediamo che la spesa in Calabria e Sicilia è più alta che nelle altre regioni quindi sul fronte della spesa pubblica lo Stato c'è semplicemente che le funzioni l'esercito dello Stato al porto della regione nella Calabria che le competenze non le ha mai ricevute questo diciamo è normale perché succede anche nel Lazio succede anche nelle miglia Romagna sul fronte della Sicilia che avrebbe tutte le competenze aperte invece si giustifica meno ma perché perché in Sicilia se andiamo a dato concreto i dieci decimi delle entrate erariali non coprono la spesa non la spesa pubblica non coprono neanche la spesa della stessa regione che ha poche competenze effettivamente esercitate come questa mattina ho visto Giampiero D'Alia che era Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali ha fatto più indagini sull'attuazione del regionalismo in Italia sia quello speciale che ordinario e da queste relazioni che tra l'altro sono tutte disponibili sul sito della Bicamerale si evince che la Sicilia è sostanzialmente di fatto quella che di norma ha lo statuto più ampio di fatto è uguale a una regione statuto ordinario perché perché non riesce a esercitare le proprie competenze però la spesa pubblica c'è c'è in Sicilia come c'è perché perché lo Stato svolge la sua funzione perequativa la spesa sanitaria in Sicilia o in Calabria o in Campania non è inferiore a quella del Veneto o della Lombardia rispetto al Veneto probabilmente è un attimino più alta diversi sono gli effetti come diceva prima Flavio sia che parliamo di regione quindi servizio sanitario che effettivamente è svolto da tutti gli effetti di quella stessa spesa sono diversi perché in mezzo c'è di mezzo un'amministrazione non è che i soldi e quindi gli euro si trasformano automaticamente in servizi sanitarie base in servizi ospedalieri di mezzo c'è un'amministrazione un'organizzazione una cultura amministrativa eccetera gli effetti sono molto diversi ed è per questo che anche lo stesso Stato che pure chiaramente ha le stesse risorse dappertutto però opera e ottiene risultati diversi a seconda del territorio quindi vediamo che ancora se vogliamo io avevo fatto un piccolo studio facendo i miei approfondimenti la scuola in Calabria costa leggermente di più che nella media italiana però i risultati a scuola in Calabria che è tutta statale quindi in mano al Ministero alle direzioni regionali generali dello Stato eccetera in termini risultato questo mi può confermare anche Flavio quindi risultati di invalsi eccetera degli enti di ricerca preposti sono decisamente bassi cioè inferiori alla media ecco questo per dire che non ci sono automatismi quindi è diverso ciò che appare in Costituzione da ciò che è effettivamente realizzato sotto il profilo del trasferimento delle competenze ma è diverso anche ciò che appare dai numeri se si vanno a vedere tutti oggettivamente i numeri del bilancio delle pubbliche amministrazioni delle singole regioni e anche dei singoli ministeri e si vede che i risultati sono molto diversi e pur a parità o situazioni simili parità di risorse spese quindi quindi questo non per dire male di nessuno ma solamente per far intendere che occorre andare al di là prima di tutto bisogna affrontare le questioni guardando i dati oggettivi quindi i bilanci dopo aver guardato i bilanci bisogna andare a vedere le cause cioè cosa c'è sotto come dire analisi del sangue uno ha i trigliceridi alti o la glicemia alta il colesterolo alto poi bisogna andare a vedere perché ecco perché se no e questo ugualmente va fatto per le regioni per lo Stato e diciamo per l'intero sistema pubblico italiano con questo io ho concluso se mi è permesso una battuta direi che l'autonomia è come un'automobile dipende da chi la guida c'è chi va dentro un lago e muore e c'è chi invece vince e chiaramente no bene usiamo questa considerazione finale ringraziando chi è partecipato chi vorrà invece vedersi separatamente seguire questo 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 dibattito questo questo confronto molto molto utile penso almeno per suscitare qualche curiosità ringrazio tantissimo Flavio vi auguro buona continuazione di soggiorno lussemburghese ringrazio il Presidente auguro a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti